Una giornata importante in un luogo straordinario. Io penso che questo sia uno degli esempi emblematici dello stare insieme. Ognuna di queste pietre, guardata singolarmente, vale pochissimo. L'insieme di queste pietre è quello che è l'emblema dello stare insieme. Abbiamo affrontato in maniera assolutamente scientifica e con alta politica il tema dei giovani e dell'Europa. E abbiamo compreso e capito dalle parole dei relatori significative che hanno un ruolo importante ai giovani a partire da adesso. La loro tenacia, la loro capacità di ascoltare e guardare il futuro deve essere messa in pratica adesso. Con l'aiuto degli adulti, con l'aiuto della politica che non può dimenticare questo aspetto importante.